ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo tutorial un tutorial che volevo rifare un remake su come attivare la virtualizzazione su bluestacks ovviamente in passato avevo realizzato un tutorial su come attivare la virtualizzazione su bluestacks 4 ora che è uscito il 10 quindi in questo caso se avete problemi con il lag su bluestacks 5 perché la virtualizzazione è disattivata per attivare questa virtualizzazione basta attivarla sulla scheda madre quindi nel bios della scheda madre quindi in questo caso una volta attivata se andate a scrivere bluestacks 5 io lo vado ad avviare esce impostazioni di windows incompatibili per risolvere questo problema una volta attivata basta direttamente fare esegui come amministratore ok e si aprirà così bluestacks 5 ora non ci resta che andare sulla scheda madre e attivare così la modalità modalità per questo bluestacks ok quindi cosa faccio un attimo che chiudo tutto e la registrazione la disattivo e vado a spegnere anzi vado a riavviare così il sistema ok quindi in questo caso io vado un ottimo a riavviare il sistema eseguo così lo riavvio poi quando uscirà così il logo della vostra scheda madre sotto vi dirà anche delle scritte per accedere al bios quindi in questo caso il tasto da premere il mio f 12 canci ok ok vediamo ok la f 12 cancio li ho premuti tutte e due così per sicurezza se no se premevo il tasto cance non premevo quello non mi faceva entrare qua dentro quindi in questo caso se ricordo bene su ok una volta entrati nel bios della scheda madre questa è una scheda madre più evoluta diciamo così più evoluta non quelle tipo di bios che si postava con la le freccette della tastiera quindi se in questo caso non sapete come cercare questa modalità adesso vi faccio vedere se sulla vostra scheda madre c'è una barra di ricerca che potete cercare questa modalità dovete andare non so su una barra della ricerca quindi andare a cercare questa modalità andiamo un attimo su oc su questa cpu configuration e come puoi vedere ls vm mod questo serve per attivare la virtualizzazione quindi tu ci clicchi sopra come puoi vedere disabilitato abilitato quindi una volta abilitato non ti resta che premere il tasto sulla tastiera f 10 quindi il tasto f 10 e salviamo così la configurazione una volta fatto si avvia così il sistema quindi quello che ci resta da fare andare su bluestacks 5 segui come amministratore perché se non avvi come amministratore potrebbe uscirti quell'impostazione incompatibile ora bluestacks 5 non ho questo problema della virtualizzazione non mi è uscito neanche una notifica o un errore in alto a destra quindi è tutto apposto abbiamo risolto così il problema quindi se questo video ti è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti attivare la campanellina di lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ok quindi ciao